ultimo giorno di scuola tra poco smontiamo le tende obiettivo esplorare finalmente quest'europa conosciuta solo le lezioni di giovedì regola numero uno non ci sono regole è un anno che organizziamo questo viaggio potevi pensarci prima d'altra parte le capitali già viste simba con voi faccio ora i 50 euro 10 40 bene ma ne menti anche tu lavori qui sì e poi fai a sopportare quella bestia immonda di là sono allenata mio marito grazie signora per la persona più gentile di questo posto io non ce la faccio a raggiungerli ad amsterdam ci vediamo a buta fra dieci giorni precisi da una settimana e ti trasformo tor materna in ibiza festa festa cazzo fai tu mi hai fatto capire che mi piace tu sei il ragazzo di martina sì ma no ma non mi avevi detto che era lesbica ma dov'è che va quando una cartolina prima mattina mi ha qua qui Grazie a tutti.